Il Monte Amiata si trova in Toscana, tra la provincia di Grosseto e la provincia di Siena. Da qui si può osservare un panorama decisamente affascinante e, sulla sua vetta, si trova la Madonna degli Scout. Questa si può osservare un peste, si trova la provincia di Siena, grazie per la provincia di Siena. Da qui si può osservare un peste durante un'interredo alle mestre di Siena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.